Secondo giorno di lavoro in chiave Cantù per la Sidigas Avellino. Giornata alla del Mauro con un classico lavoro tra sala pesi, seduta di tiro e allenamento tattico. Unico assente Giovanni Pini. Nel corso di sottocanestro, l'ala grande bianco-verde Salvatore Parlato ha presentato la squadra di Cosci Corbani. Cantù è una squadra abbastanza strana, nel senso che ha avuto la possibilità di giocare contro Sassari. È una squadra che gioca molto sull'entusiasmo, molto sulla corsa e sul tiro, avendo in squadra giocatori come Heisbrook e Heislip, che sono dei tiratori puri. Una tipicità tra reparto esterni e pacchetto lunghi, che nei 40 minuti della pianella Avellino dovrà sfruttare al massimo. Magari hanno qualche pecca nello spot numero 5 del lì, che magari noi possiamo sicuramente colpirli con Ivan, con Ivan Buva, con Riccardo Cervi. Però ovviamente sappiamo che per vincere con un palazzetto difficile come quello di Cantù, dove è un palazzetto storicamente difficile per Avellino, dobbiamo giocare come sempre di squadra e fare tutto insieme, da partire dalla difesa a finire in attacco. Avellino salirà in ebrianza per affrontare avversari e palazzetto solitamente ostici, ma la statistica non preoccupa il play guardia della Sidigas, Mattiano Orcino. La storia ha il suo significato, ma fino a un certo punto. Ovviamente roster diversi, sicuramente il pianella è un campo difficilissimo per chiunque, non solo per Avellino. Speriamo che sia la volta buona per sfatare questo tabù.